Era un bambino quando l'hai lasciato. Tutti e due i figli ho lasciato. L'ho abbandonato entrambi. È la cosa peggiore che una madre possa fare. Sì. Lei è una figlia. Sì, ma non ho mai conosciuto il padre di Giulia. Ma lo desiderava così tanto. Sì, tanto. È una donna fortunata. Ci sono momenti in cui ti senti vuota e ti convinci che vuoi farla finita. Sono andata in un albergo un giorno e lì ho deciso di fare un passo. Il passo era di lasciare la mia famiglia dopo la nascita del mio secondo bambino. E ho fatto così. Una mattina mi sono alzata. Ho preparato la colazione. Sono andata alla fermata dell'autobus. E sono partita. Ho lasciato due righe. Ho lavorato in una biblioteca in Canada. Sarebbe bello poter dire che ho dei rimorsi. Sarebbe un aiuto. Ma che senso può avere provare rimorso di qualcosa quando è una scelta? E quanto riesci a sopportare? Tutto qui. Nessuno riuscirà a perdonarmi. Lì c'era la morte. Io ho scelto la vita.